Aveva 37 anni, Cosimo Di Lauro, brindisino, si era trasferito al nord per lavoro. L'uomo è rimasto vittima di un terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 6 luglio. È accaduto in provincia di Verona, tra l'allacciamento con l'A4 e il casello Nogherale Rocca. Di Lauro era a bordo di un furgone bianco di una ditta per cui lavorava, quando il mezzo, per cause da accertare, ha sbattuto contro il guardrail. Il 37enne è stato sbalzato sull'asfalto a causa dell'impatto violento. Il personale del 118, giunto con l'ambulanza, però non ha potuto che constatare il decesso dell'uomo e prestare soccorso invece agli altri due feriti che viaggiavano insieme a lui, trasportati all'ospedale di Verona in codice giallo. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Verona, che sta ora cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma del brindisino, al momento, resta a disposizione della Procura di Verona.